Come misurare i pollici dello schermo? Se devi acquistare un PC o una televisione nuova ed hai la necessità di misurarne la grandezza in pollici, in questo video imparerai a farlo. La grandezza in pollici è uno standard definito dai primi costruttori di televisioni. Per misurare la grandezza in pollici del tuo schermo, tutto quello che ti serve è un metro o un righello ed ovviamente il tuo schermo. La procedura è semplicissima. Posiziona il metro in diagonale dall'angolo in alto a sinistra, fino a quello in basso a destra. Fai la tua misurazione. Ricordati di misurare solamente la parte dello schermo e non quella della copertura in plastica. In questo grafico trovi esattamente a quanti pollici corrispondono i centimetri misurati. In alternativa, puoi cercare su Google la conversione. Ti basterà cercare da centimetri a pollici e poi in questa casella inserire i centimetri misurati. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale.